Oggi, 25 novembre, ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Perché nel 2022 parliamo ancora di questo fenomeno, ancora ci sono degli uomini che esercitano la propria prepotenza e quindi le proprie azioni di violenza sulle donne. Perché, come dice benissimo questa frase, solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Effettivamente l'uso della forza della violenza nei confronti delle donne è un qualcosa che porta indietro l'uomo nella sua evoluzione, insomma, nella sua natura di essere pensante. E quindi non ha altri strumenti per esercitare il suo potere se non quello di usare la violenza. Andiamo a vedere qualche numero relativo a questo terribile fenomeno. Questi numeri sono relativi al 2021. Vediamo che ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa. E quindi vediamo che nel 2021 le donne uccise sono 109, quindi i femminicidi sono aumentati dell'8%. Cos'è un femminicidio? È un omicidio commesso nei confronti di una donna. Perché questa distinzione di termini? Perché nella nuova legislazione l'uccidere una donna, quindi l'esercitare violenza contro una persona che è più indifesa, che è, diciamo, anche a livello sociale è considerata più debole, perché purtroppo ha meno tutele degli uomini, costituisce un aggravante e quindi questo tipo di reato rientra nella violenza di genere. Vediamo ancora che sono aumentate del 7% le vittime dei partner o degli ex partner. Quindi ancora una volta questo dato testimonia che la maggior parte delle violenze avviene nel chiuso delle pareti domestiche. Perché ancora molti uomini considerano il matrimonio, considerano il legame con una donna, un legame di possesso, di appartenenza. Vediamo che sono aumentati del 45% i casi di revenge porn. Questo è un dato allarmante perché coinvolge molto anche voi giovani. Cos'è il revenge porn? È un ricatto di natura sessuale. Degli uomini che detengono delle immagini o dei filmati intimi che riguardano le proprie compagne, le ricattano, nel caso esse vogliono lasciarle, vogliono lasciarli, vogliono abbandonarli, di pubblicare queste foto. E quindi molte donne vivono sotto, molte ragazze vivono sotto questo continuo ricatto. Sono aumentati, guardate, in Italia del 143% le costrizioni al matrimonio. Questo dato riguarda particolarmente culture immigrate in Italia, in cui culture che continuano a perpetrare le loro antiche tradizioni, anche in un paese dove queste tradizioni non sono consentite. Il ritrovamento del corpo di Saman negli ultimi giorni ci ricorda tristemente questo tipo di episodi. Saman è la ragazza afghana che si era rifiutata di sposare il promesso sposo imposto della famiglia e per questo è stata uccisa e sepolta. Quindi vedete che guardando questi numeri, queste cifre, considerando che siamo nel 2022, ci vengono i brividi. Come potete vedere a queste slide è collegato un link per visionare su YouTube un video sulla tematica, un video girato in una scuola di Sirmione da un professore che appunto invita i suoi alunni a, ogni volta che hanno notizia di un femminicidio, a scrivere, invita a scrivere una frase d'amore alle proprie compagne, in cui i ragazzi si sentano responsabili nei confronti dei comportamenti del genere maschile e in certo modo si scusino con le loro compagne. È proprio l'attività che abbiamo fatto oggi in classe. Come si riconosce la violenza? Anche a questa slide è collegato un bellissimo video di un'attrice che ci fa capire come a volte la vittima della violenza finisce per ritenersi responsabile degli eccessi di ira dei propri patri. Vedete che oltre a frasi come se ti fa del male fisico, se ti spingersi schiaffeggia, se ti prende a calci, ti tira pugni e ti strappa i capelli, questo non è amore. Troviamo anche delle frasi che riguardano l'intimidazione, quindi se ti intimidisce, se ti chiude in una stanza, quindi se ti priva della libertà, se ti offende e se ti omiglia. Quante volte sentiamo circolare frasi, se una donna non capisci niente di queste cose, sono io che lavoro, se non ci fossi io, tu dove finiresti? Oppure, questo ancora più grave, ed è una cosa che impedisce a tante donne di mettere fine a dei rapporti violenti, l'ultima frase, se minaccia la tua libertà anche economica, questo non è amore. Quante donne sono soggette a uomini, magari hanno anche dei bambini, e non lasciano questi uomini perché non hanno un lavoro, e l'uomo sa di poter esercitare questo soppruso su di loro e le dice frasi del tipo, se mi lasci, se vai via con i bambini, cosa li darei da mangiare? Se mi dovessi lasciare, nessun giudice ti darebbe i bambini perché non è un lavoro. Bene, per fortuna ci sono delle associazioni contro la violenza sulle donne che concedono dei sussidi economici cioè le donne che decidono di lasciare dei mariti violenti e le aiutano nella ricerca di un lavoro. Proprio perché questo tipo di ricatto è uno dei più terribili ricatti che un uomo possa fare a una donna. Renderla dipendente da sé. Non solo chi commette fisicamente la violenza partecipa a questi cattivi atteggiamenti nei confronti delle donne, ma se cerchi una giustificazione alla violenza sulle donne il violento sei anche tu perché le parole sono importanti. Quindi non è normale che siano normali delle frasi del tipo Lascia stare sono cose da uomini o del tipo Dovresti essere contenta se ti guardano una frase che sentiamo spesso dire purtroppo tristemente anche da voi ragazzi quando una ragazza si sente offesa dalle sguardi invadenti di altri uomini e i ragazzi in maniera superficiale magari pensando anche di essere divertenti le dicono una frase del genere Dovresti essere contenta anche che ti guardano ma io decido da sola da chi voglio essere guardata non sono un oggetto sessuale di nessuno Frasi del tipo rivolte a delle donne che hanno raggiunto dei livelli alti a livello professionale a livello della loro carriera e chissà che ha fatto quella per lavorare alludendo al fatto che possa aver prestato dei favori di natura sessuale Frasi del tipo Beh, se ti vesti così perché ti lamenti poi se ti insidiano se ti toccano se ti guardano Oppure ancora una frase veramente da brividi riferita alle ragazze che subiscono stupro o violenza da gruppi di ragazzi se l'è cercata come se una donna che vuole vivere liberamente non deve frequentare alcuni ambienti non deve vestirsi in alcuni modi non deve frequentare alcune compagnie Questa è una cosa purtroppo insita nella nostra cultura è che per colpa della diffusione delle immagini della mercificazione del corpo delle donne che avviene sui social ognuno si sente legittimato a esprimere il proprio giudizio i cosiddetti haters che insomma di fronte a delle immagini di donne che giustamente vogliono mettere in mostra sono orgogliose della loro bellezza sono orgogliose del loro corpo si permettono di esprimere questi giudizi come ci si libera dalla violenza questa poesia è uno splendido consiglio che la poetessa e me scomparsa Alda Merini dà alle donne combattere la violenza con il sorriso sorridi donna sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride sorridi alle mori finiti sorridi ai tuoi dolori sorridi comunque il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino faro per i naviganti sperduti il tuo sorriso sarà un bacio di mamma un battito d'ali un raggio di sole per tutti a questa slide è legato un bellissimo video che ha vinto un premio nella tematica della violenza contro le donne nell'ultima slide riportiamo un invito di William Shakespeare che è vissuto nel 1600 quindi un bel po' di anni fa che però già si era accorto in un mondo ancora più misogeno ancora più ostile alle donne di quello nostro quanto gli uomini dovessero pentirsi dovessero chiedere scusa alle donne per tutte le violenze consumate su di lei per tutte le umiliazioni che ha subito per il suo corpo che avete sfruttato per la sua intelligenza che avete calpestato per l'ignoranza in cui l'avete lasciata per la libertà che le avete negato per la bocca che le avete tappato per le sue ali che avete tappato per tutto questo in piedi signori davanti a una donna è importante che gli uomini di domani si rendano conto di quanto possano ferire una donna quindi è per questo che è importante affrontare a scuola queste tematiche perché purtroppo viviamo in un periodo un nuovo periodo il periodo della incultura della non cultura della diffusione delle immagini e della ricerca del consenso facile quindi non lasciatevi ingannare da quello che vedete in giro cercate di regolare i vostri rapporti soprattutto per le donne soprattutto in un'età come l'adolescenza quando siamo un po' confusi da questo punto di vista di regolare i vostri rapporti con le donne con la delicatezza e con l'amore che meritano arrivederci grazie a tutti